Non fa sconti il Movimento 5 Stelle che denuncia il governo nasce lacerato da una guerra per le poltrone e senza passare dal voto il Parlamento non conta più nulla. Assistiamo alla nascita del terzo governo che appunto nasce senza passare per la volontà popolare alla faccia proprio di tutti gli italiani che vorrebbero partecipare alla loro vita politica. Noi del Movimento 5 Stelle assistiamo sconcertati a tutto questo, intanto comunque continuiamo ad occuparci dei problemi concreti dei cittadini.